In questo video voglio parlarti dei tre errori gravissimi che le persone che utilizzano il Blue Yeti commettono ogni giorno. Assicurati di guardare questo video fino alla fine perché alla fine c'è il bonus tip. Allora come ti raccontavo nell'introduzione di questo video in questo momento siamo qui col Blue Yeti che è un microfono iconico per la sua forma che può piacere può non piacere sembra un suppostone gigante che però diciamo quando è venuto fuori quando l'hanno prodotto è diventato un microfono che avevano tutti ancora oggi nel 2023 quando sto registrando questo video tante persone utilizzano il Blue Yeti ma in questo video noi parliamo dei tre errori più uno che la maggior parte delle persone commettono. Ci sarà un altro video più in là dove appunto ti parlerò del fatto che forse nel 2023 utilizzare questo microfono non conviene ma non voglio spoilerarmi un altro video. Allora torniamo sull'argomento tre errori. Il primo errore che vedo fare alle persone che utilizzano il Blue Yeti è quello di scegliere il pattern polare sbagliato. Questo microfono ha quattro pattern polari, ha una capsula tutta particolare per cui riesce a gestire quattro pattern polari. Benissimo. Quali sono questi quattro pattern polari? Ti dico subito quello che dovresti usare se fai podcast e tu lo sai che è questo canale dedicato esclusivamente al mondo dei podcast audio e video. Quindi non ti parlo di cantare, non ti parlo di musica, non ti parlo di field recording o altro però voglio spiegarti comunque questi quattro pattern polari. Dicevo il pattern polare che tu devi utilizzare per far podcast, per registrare la tua voce come sto facendo io in questo momento è il pattern polare cardioide. Che cosa vuol dire? Che prende tutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Ok? Quindi questo è il pattern polare più utile. Gli altri pattern polari sono per esempio quello stereo che è utile soprattutto oggi per fare ASMR. Infatti questo è un microfono molto utilizzato da tutte quelle persone che fanno video muti dove si sentono soltanto i rumori, quindi senza audio, senza voce o altro. Ma è anche utile per registrare degli strumenti perché magari degli strumenti necessitano di avere una visione stereofonica o anche la voce magari a volte ti può servire la voce stereo. Il pattern polare omnidirezionale serve soprattutto per registrare, non so, concerti, serve per registrare field recording, quindi registrazioni sul campo. Il pattern polare bidirezionale è quello forse tra i quattro subito dopo il cardioide più interessante perché? Perché ha due aree di interesse, una davanti e una dietro. Quindi immagina di voler fare un'intervista a una persona e avere soltanto il blu yeti, lo piazzi al centro della scrivania, una persona davanti e una persona dietro. Lui non è assolutamente ricettivo di lato, quindi ascolta soltanto ciò che arriva davanti e ciò che arriva dietro. Benissimo, in questo caso puoi condurre un'intervista a una persona soltanto con un microfono col pattern polare bidirezionale. Ok? Questi sono i quattro pattern polari di questo microfono. Come ti raccontavo prima, per far podcast, quello che devi utilizzare è assolutamente il pattern polare cardioide. Ok? Quindi questo è il primo errore che vedo fare, scegliere il pattern polare sbagliato o sceglierne uno a caso in base alla simpatia che i simbolini che sono posizionati nel retro del microfono. Guarda, qui, ok, bene, aspetta rimettiamo, ok, quindi sulla simpatia come ti dicevo dei quattro simbolini che ci sono sul retro del microfono. Ok? Quindi mi raccomando, assicurati che il selettore dei pattern polari sia su cardioide. Il secondo errore che vedo fare è quello di posizionare il microfono nel modo sbagliato. Ok? Allora, il Blue Yeti è un microfono particolare perché avendo questa forma a suppostone non è proprio chiaro quale sia davanti, quale sia dietro o altro. Soprattutto perché, vedi, ha delle viti laterali, si può smontare. Quindi immagina di comprarlo usato, immagina che la persona che te l'ha venduto l'ha montato al contrario, perché magari l'aveva smontato e l'aveva montato su un'asta, quando l'ha rimontato di fretta l'ha montato al contrario, ecco tu pensi che quello sia il davanti invece è il dietro. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna parlare nel Blue Yeti così come sto facendo io. Guarda qui. Questo qui, appunto, è la parte anteriore del microfono, dove c'è appunto la scritta Blue. Quasi tutti i microfoni hanno la scritta sulla parte anteriore, quella nella quale devi parlare. Ok? Questo microfono è un microfono Side Address. Che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna parlare qui, non qui. Quante volte hai visto persone che parlavano in questo modo? Quante volte hai visto persone, magari addirittura così, persone che parlavano convinte che questo fosse il davanti del microfono. Senti la mia voce come è cambiata tantissimo rispetto a prima? Perché? Perché qui non c'è la capsula. In questo momento la capsula è ricettiva qui, non qui. Ok? Quindi io ho visto tanti, tra virgolette, professionisti che utilizzano questo microfono. E già io mi farei una domanda. Perché un professionista utilizza questo microfono. Non ha senso. Comunque dicevo, tanti professionisti utilizzano questo microfono e parlano in questo verso. Quindi io rido perché rido, ma non ha senso. Ti rendi conto perché sai qual è la soluzione? Leggere le istruzioni. Ma sarebbe troppo facile, no? È molto più facile sbagliare, far di testa propria. Ok? Altra cosa che vedo fare come errore è appunto quello parlare nel verso sbagliato del microfono. Adesso sto parlando nella parte posteriore del microfono. Ok? Perché questa è la parte anteriore. In questo momento sto parlando della parte posteriore che non è assolutamente ricettiva. Ti ricordi prima ti ho detto che questo microfono adesso è settato sul pattern polare cardioide. Che cosa vuol dire? Che prende soltanto ciò che arriva davanti. Dietro è vuoto. Non c'è niente. Ok? Quindi la mia voce adesso la stai sentendo perché rimbalza sul computer e entra dentro. Perché rimbalza nell'ambiente circostante e entra dentro. Quindi è una voce oscena in questo momento. Quindi anche in questo caso ricordiamoci che questa è la parte dritta del microfono. Questa è la parte dritta del microfono. Quindi devi parlare così. Ok? Questo è fondamentale perché oltre a fare una bruttissima figura come hai sentito con le tue orecchie il suono è veramente osceno. Il terzo errore che vedo fare dalla maggior parte delle persone che utilizzano questo microfono è tenerlo a una distanza troppo piccola o troppo grande e posizionarlo davanti alla propria bocca. Adesso tu stai sentendo la mia voce qui con una posizione corretta perché è fuori asse. Vedi? Davanti alla mia bocca non c'è niente. Il microfono è di lato ma punta con la capsula verso la mia bocca. Questa è la posizione migliore perché? Perché quando noi parliamo esce aria dalla bocca. Benissimo. La maggior parte dell'aria che esce va dritta ovviamente. Benissimo. E dentro quest'area molto forte ci sono anche le P e le B che sono le consonanti plosive che sono quelle che danno fastidio durante la registrazione che creano una sorta di scoppiettio che all'utente che ascolta con le cuffiette dà veramente molto fastidio. Quindi che cosa bisogna fare? La posizione corretta è questa. Io vedo però spesso le persone che mettono il microfono quando indovinano il lato giusto del microfono e non è sempre detto che sia così. Lo mettono davanti. Come ti raccontavo? Vedi? Provo a indirizzarlo comunque verso la bocca. Adesso pizza, pizza, podcast, podcast, pizza, pizza. Senti? Nonostante la distanza è la stessa, cioè una mano. Vero che io ho la mano grande ma una mano di distanza però senti come tutta l'aria della mia bocca arriva direttamente a colpire la capsula. Colpisce la capsula. In questo modo le P e le B si sentono molto 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 più fastidiose. Nel frattempo ho mandato in clip tutto perché ho fatto boom. Ok. Ma non fa niente. Altra cosa è le persone che magari parlano molto vicine al microfono. In questo modo. Senti l'effetto di prossimità. Io adesso sto parlando con un volume molto basso della mia voce perché sennò va tutto in distorsione. Senti come la mia voce diventa molto, come dicono gli americani, boomy. Molto bassa come frequenze. Se io parlassi ad alta voce andrebbe ancora di più tutto in clip. Ok. Altra cosa se io invece lo metto molto lontano perché non voglio che venga nell'inquadratura per esempio. Non so, comunque immagina che non si veda. Adesso si vede il microfono. Però immagina di tenerlo molto lontano così. Che cosa accade? Accade che io sto parlando e quindi il microfono comunque percepisce la mia voce ma siccome un microfono molto sensibile, provo a stare un attimo in silenzio, guarda quanto dell'ambiente circostante prende. Per farti ascoltare questo, io comunque sai bene tutta la traccia, una volta che sistemo il video, la traccia la porto, la traccia audio a meno 14 lufs. Quindi per permetterti di ascoltare bene. Quando io ho il microfono così lontano e porto il volume a meno 14 lufs viene su tutta la spazzatura sonora. Quindi si sente veramente di tutto. Ok? E te ne stai accorgendo in questo momento perché ho alzato appunto tutto a meno 14 lufs. Quindi torniamo di nuovo nella posizione corretta. Ecco, in questo momento il microfono è posizionato nel modo corretto. Quindi la distanza dalla bocca è fondamentale ma anche la posizione quindi di lato è fondamentale perché questo qui è un microfono a condensatore ed è molto sensibile. Quindi riprende veramente di tutto. Più lo tieni lontano dalla tua voce, più il volume sarà basso, in post produzione dovrei alzarlo e ovviamente alzerai anche tutti i rumori di fondo. Quindi mi raccomando la posizione del microfono. Prima di chiudere questo video però voglio raccontarti qual è il più uno perché ti ho detto questo video sono tre errori più uno. Quindi c'è un bonus tip finale che è appunto questo. Sei sicuro che questo sia il miglior microfono da utilizzare per fare podcast, per fare live streaming o fare altro? Sei proprio sicuro di questo? Perché questo microfono qui essendo un microfono a condensatore ed essendo un microfono molto sensibile, in un ambiente non acusticamente trattato suona veramente male. Perché? Perché riprende tutti i rumori che ci sono nella stanza che vengono da fuori, dalla signora del piano sopra, dai ragazzi che abitano sotto, dal vicino della villa accanto. Questo microfono è un microfono in quanto è un microfono a condensatore. Ora non voglio parlarti della qualità del microfono, bla bla bla, USB eccetera perché trovi un sacco di video nel mio canale, ma essendo un microfono a condensatore, quindi essendo un microfono molto sensibile, o lo usi in un ambiente acusticamente trattato o non c'è verso. Questo microfono suonerà malissimo sempre e comunque. Ok? Quindi come al solito la prima 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 cosa da fare, se vuoi registrare la tua voce, è quella di trattare acusticamente la stanza. Lo so che è una cosa noiosa, perché tutti vogliono comprare il microfono. Tutti, Ale, qual è il microfono migliore per me? Ale, qual è la scheda audio? Bla bla bla, tutte queste domande. Per carità corrette, ma qualsiasi sforzo economico, anche 50 euro soltanto, utilizzato in un ambiente non acusticamente trattato, sarà uno sforzo vano. Perché suonerai male, per forza. Suonerai male per forza e dirai, vabbè, questo non è il microfono adatto a me, questa non è la scheda audio adatto a me. Assolutamente no, è che qualsiasi strumento, soprattutto un microfono a condensatore, utilizzato in una stanza non acusticamente trattata, suonerà malissimo, malissimo. Quindi metti da parte l'orgoglio, la voglia di far vedere la tua strumentazione e compra pannelli fonoassorbenti di qualunque tipo. L'importante è che provi a trattare acusticamente la stanza, fare qualcosa dal mio punto di vista è sempre meglio che non far niente, quindi prova, chiedimi consiglio, chiedile a un professionista, chi vuoi tu, ma tratta acusticamente la tua stanza perché sennò qualunque microfono suonerà malissimo e tu darai la colpa ovviamente al microfono, che farai? Venderai quello, ne comprerai un altro, suonerai malissimo uguale, ne comprerai un altro, poi magari ti avvilisci perché dici vabbè non sono portato per farlo o altre cose del genere, ma hai buttato un sacco di soldi e tempo. Nel tuo unico interesse, perché il podcast è tua, la voce è tua, la stanza è tua, i soldi sono tuoi, nel tuo unico interesse ti dico tratta acusticamente la stanza. Dopo puoi usare questo, puoi usare un altro microfono, quello che ti pare, ok? Bene, in questo video volevo raccontarti appunto quali sono i tre più uno errori che la maggior parte delle persone che utilizzano questo microfono commettono. Spero che questo video sia stato interessante per te, se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io come al solito rispondo nel più breve tempo possibile, ok? Per ora è tutto, noi ci vediamo settimana prossima, nel frattempo buona registrazione in un ambiente acusticamente trattato. Mi raccomando.